Potenzialmente pericolose, si è andato a verificare il gruppo dei collaboratori a vedere se esiste questa opportunità. L'intenzione è quella di voler fare il trasposso nel sattuale Santarota ad aspettare che le condizioni del tempo si migliorassero. Sono tutti prontamente sopporti ed asciugati e ricordiamo che il primo che per chi ha voto di poter osservare abbiamo... Il capitato dei cuori di Milano si ripresa anche ai tuoi, nelle tue 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 tue. Sono state eliminate per l'attore del tempo tutte le cerimonie celebrative, quali riconoscimenti e consegna degli attestati prima della partenza della macchina Gloria. Ci saranno premiazioni questa sera qui in piazza. Faremo una giornata del facchino, faremo. Faremo una giornata del facchino particolare per la premiazione dei nostri ragazzi del quinto anno. Grazie a tutti. 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 vi benedica e vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E viva Santa Rosa! E viva! E viva i mini pacchini pure! E viva! Piccola come i mini pacchini! Avanti! Sistemateli i cosci denti! Filà sotto! Filà B sotto! È il terzo anno che mi sono voluto fare e vi ho voluto fare questo regalo. Cioè di far dare il sorvato e fermi da Sandro, il capo facchino. Io come vi ho detto tante volte non mi è mai capitata una fortuna del genere. Voi ce l'avete. Sfruttatela e godetevi questo momento. Poi speriamo un domani che lo possiate sentire tante volte il sorvato e fermi di Sandro. perché persone così ce ne sono poche ragazzi. Buonasera a tutti nazionalmente. E' un domani che vi faccio l'augurio forte che domani possiate partecipare alla festa del tre. Adesso procediamo con gli attimi quindi più intensi che alla partenza, come in tutte le partenze insomma. Ci si è scordati quello che era l'anno ultima e bisogna rinfrescarsi l'idea. Quindi massimo impegno, massima concentrazione. Deus lo posizio, soltono, fuels up. Faccio senza microfono? Machini Santa Rosa Siamo tutti nel sentimento? Sììììììììììììììììììììììììììì producción justi in alto e godito soltano giù fa fermiìììììììììììììììììììììììììììììììììì sollevato i svermi! Mani unite ragazzi, piano e lentamente, avanti, uno, uno se no qua è un disastro, tutte le mani che faccio sia, se no nel senso che si non mi senti non faccio venire, non faccio venire, non faccio venire, non faccio venire Grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti